10 del 10 del 10 sono coincidenze che ogni tanto capitano, ma tipo stamattina alle 10.10 che cosa ha fatto? cosa ha fatto? Non lo ricordo e stasera alle 10.10 di sera? non glielo so dire no? comunque è importante come giorno obiettivamente sono qua si pensa di no ma guardi per me è un giorno come tutti gli altri è un giorno come tutti gli altri va bene, perfetto, grazie arrivederci